buona giornata amici oggi è martedì 9 novembre 2021 questa è la rassegna stampa di fano tv che permetterà di vedere le notizie pubblicate dal resto del carlino e dal corriere adriatico e come tutte le mattine procediamo con il santo del giorno e il meteo oggi è la dedicazione della basilica lateranense non c'è un santo particolare ma si festeggia un avvenimento la basilica lateranense fu realizzata dall'imperatore costantino nel 300 e dedicata a san salvatore fu uno dei templi realizzati dall'imperatore romano insieme a quello di san pietro e fu residenza dei sommi pontifici per secoli fu un tempio quindi molto molto frequentato san francesco quando andò a roma si presentò nella basilica lateranense e non a san pietro per cui dal 1700 in poi il papa istitui questa festa della dedicazione della chiesa e ora diamo un'occhiata anche al meteo vediamo che anche oggi si profila una giornata grigia e uggiosa ovunque con nubi diffuse e qualche debole pioggia o piovigine localizzata vedete la mappa con le nuvolette e la pioggia un po su tutta la regione le temperature sono in calo il clima è pienamente autunnale ora procediamo alla sintesi delle prime pagine dei quotidiani questa mattina a partire dal corriere adriatico il titolo di apertura nuova questura al buio con il progetto dell'ex intendenza sono saltati anche i 6,2 milioni di euro che erano stati promessi per la realizzazione dell'edificio il comune ha individuato due aree ma il sindaco avverte non sono io a decidere deciderà il demanio e il ministero c'è il pnrr però i fondi vanno chiesti subito insomma finanziamenti potrebbero esserci ma bisogna accelerare le pratiche e per quanto riguarda invece la fotonotizia iniziale vediamo che si parla ancora di sanità e in modo particolare del pronto soccorso subito le stabilizzazioni del personale e i lavori sono le richieste che sono state espresse all'assessore regionale della sanità Filippo Saltamartini nell'incontro di ieri le tre notizie evidenziate al centropagina a Vallefoglia un episodio di cronaca arriva con il taxi per aggredire la ex ma poi scappa a piedi a pesaro soldi per le sigarette stalking a sua madre un ragazzo è stato condannato a due anni a fanno saranno istituite altre dieci telecamere nelle isole ecologiche e nel frattempo sono state elevate 400 multe ai furbetti adesso chiamarli sempre furbetti è un po un diminutivo occorrerebbe chiamarli dei maleducati insomma di coloro che non hanno ormai un senso civico e poi abbiamo un lutto a fondo pagina sul corriere adriatico travolto mentre attraversa morto gelli la voce del liscio e questo è accaduto a bivio borzaga è stato investito da un suv sul resto del carlino la prima pagina è caratterizzata da un episodio di diciamo così un episodio di cronaca particolare sono lesbica e giubbotte dal padre l'uomo non sopportava che la figlia ventenne amasse un'altra donna sulla foto notizia centrale abbiamo il film il docufilm che è stato realizzato su tonino benelli un mito che rivive qui vediamo la foto con il regista del film marta miniucchi al centro e tutti gli altri personaggi che hanno collaborato era la voce di romagna mia edgardo gelli travolto e ucciso e poi ancora nuova questura ora il sindaco passa la palla allo stato per quanto riguarda lo sport abbiamo la sostituzione dell'allenatore alfano calcio gioffre esanorato spunta capellacci e per quanto riguarda la vl johnson la spilla spalla tiene e decolla il mercato in arrivo una guardia ala e queste sono le notizie un po sintetizzate ma restiamo sul resto del carlino per dare un'occhiata all'interno e vediamo subito la notizia che viene rilanciata con grande evidenza abbiamo parlato anche nei giorni scorsi si tratta del considerevole per l'importo economico che ha comportato asta per la cessione dell'hotel cruiser asta cruiser alla fine la spunta filippetti il più importante imprenditore pesarese nardo filippetti si è giudicato la mega struttura di oltre 100 camere per 6,750 milioni di euro è un edificio strategico ha dichiarato attigo al vecchio palace che diventerà un centro congressi la sfida vinta con piantini l'albergatore di senigaglia in questo momento filippetti ha tre alberghi su pesaro più un hotel in sicilia a perugia in sardegna e da poco anche un hotel a rimini quindi sta diventando un imprenditore anzi lo è già un imprenditore di grande rilievo nuova questura il sindaco ricci alza le mani è lo stato a decidere dove farla non io il primo cittadino spiega la scelta del demanio di bocciare l'ex intendenza di finanza si sono accorti però questa è una dichiarazione al vetriolo si sono accorti dopo sei anni che costava troppo insomma ci potevano pensare veramente prima trovare il luogo dove realizzarla non spetta a me ma se posso do una mano per risolvere il problema ha dichiarato ricci e vediamo quali sono stati i luoghi bocciati la vecchia sede della banca d'italia in via rossini e poi l'ex scuola bramante in largo aldomoro è stata ugualmente proposta per la sua centralità e anche e anche villa marina nella zona mare che appartiene all'inps ed è in vendita è stata offerta dal sindaco al demanio come possibile opzione che poi è stata rifiutata e torniamo a parlare oltre che della questura dell'intendenza di finanza anche dell'ospedale tra case bruciate e muraglia e qui abbiamo ancora il progetto di ferri l'analisi anzi dell'architetto ferri ospedale case bruciate meglio collegato e a muraglia impatto ambientale pesante l'analisi dell'architetto sulle sedi in ballo ma a scapito della zona sud c'è il rischio di ritrovamento di reperti archeologici e poi c'è anche il rischio idrogeologico due foto significative pubblicate oggi dal resto del carlino due rendering in alto abbiamo muraglia come verrebbe nell'ipotetico ampliamento dell'attuale ospedale e sotto abbiamo case bruciate con una soluzione che secondo ferri avrebbe un minore impatto un esempio di terrazzi giardino già usati nel nord europa un'architettura insomma più orizzontale che migliorerebbe la qualità degli spazi come appunto i tetti giardino e a muraglia avrebbe abbattuto un parco contenente centinaia di grandi alberg e alberature quindi insomma la preferenza almeno a livello locale la si dà senz'altro a case bruciate e abbiamo ancora la foto del dottor umberto gnudi che è il responsabile dei pronto soccorso di pesaro e di fano sanitari aggrediti maxi udienza in regione meno precari più soldi se no chiudo tutto chiudo tutto ha detto il primario di marche nord dobbiamo far sì che questo lavoro torni ad essere attrattivo ebbene tornando alle aggressioni e il giornalista chiede al medico se è partito il servizio di guardia armata e lui dice sì è partito è un segnale bello ma a mio avviso non è risolutivo può essere un deterrente per chi ha reazioni e insomma esagerate ma non sono loro che creano problemi apprezzo comunque l'attenzione mostrata e intanto il ministro della salute roberto speranza ha annunciato che dal prossimo anno alla retribuzione sarà aggiunta una indennità accessoria ma anche su questo punto insomma gnudi minimizza francamente non è un centinaio di euro in più che salva la situazione occorre invece personale occorrono attrezzature occorre migliorare tutto all'apparato di pronto soccorso dammi soldi ma la cassiera coraggio resiste è andato a male ad un rapinatore che ha tentato una rapina al conad del campus intorno alle 17 40 di ieri un giovane balordo armato di pistola è stato costretto a fuggire a mani vuote perché perché la commessa non ha subito accontentato il rapinatore dando gli soldi della cassa ma ha tergiversato nel frattempo sono entrati altri clienti il rapinatore ha avuto paura ed è scappato a mani vuote aveva sieno 20 anni e qui la notizia della persecuzione che una famiglia ha attuato nei confronti della propria figlia perché ha dichiarato di essere lesbica i genitori le tendono l'agguato padre la trascina per i capelli e la picchia paura dalle fiume padre e madre tirano fuori la figlia ventenne dall'auto della fidanzata è stata salvata dall'addetto di un hotel un dipendente si chiama roberto dell'hotel due pavoni che quando ha visto la scena è intervenuto e ha consentito alla ragazza di rifugiarsi all'interno dell'hotel poi è stata chiamata la polizia e insomma la cosa è stata sedata ma però insomma la ragazza ormai è andata via definitivamente di casa mi hanno fatto seguire anche da un investigatore privato ora dice la ragazza sono a casa di amici il rompe in casa dell'ex convivente le strappa il telefonino e fugge altro episodio di cronaca l'uomo un 26enne romeno è stato arrestato dai carabinieri chiamati dalla donna che non voleva più saperne di lui il molestatore aveva già avuto due querere per stalking per terrorizzare lei ha preso un taxi e poi se ne è fuggito a piedi e intanto lasciamo un po la cronaca da parte e vediamo altri argomenti pesaro è tra le città tra le 20 città più green d'italia è il report dell'ecosistema urbano di lega ambiente vanno bene le ciclabili e il verde urbano male la differenziata e la dispersione idrica insomma ci sono perdite nell'apparato nel nell'apparato idrico che sono importanti si aggirano insomma sul 30 per cento nell'uso dei mezzi di trasporto pubblico i pesaresi sono solo 58esimi si preferisce ancora la propria auto e vediamo anche una notizia di cronaca a mezzo tra la cronaca e il problema urbano la ruota della carrozzina finisce in buca e il nonno cade si tratta della strada groviera di piazzale matteotti e stavolta è accaduto sulle strisce appunto della piazza. la consigliere di quartiere rosetta tempesta denuncia occorre mettere in sicurezza almeno gli attraversamenti pedonali vedete in che stato è ridotto l'asfalto sulle strisce le vedete insomma di due colori. Vallefoglia punta a recuperare le case rurali avviate le procedure per accedere ai contributi statali il sindaco Palmiro Ucchielli dice aspettiamo molte richieste dai cittadini nella sala della giunta del vecchio palazzo del municipio di Colbordo il sindaco Palmiro Ucchielli ha presentato un provenimento importante una variante al piano regolatore generale per recuperare le case coloniche e alcune sono anche molto molto antiche. E poi oltre 7 milioni di euro per i borghi la regione approva la legge i fondi si potranno assegnare dal 2022 per le riqualificazioni edili e urbanistiche a destinazione turistica e non solo i progetti di recupero serviranno a rivitalizzare i castelli valorizzando l'albergo e residenze che solo è residenze diffusi. E veniamo nella pagina di Fano il carlino si occupa ancora della protesta dei commercianti di via Negusanti la strada sarà totalmente chiusa al traffico fino a fine mese 20 giorni insomma di chiusura ira dei commercianti i patti affermano non erano questi si sta realizzando come noto un drastico cambiamento della viabilità sono stati annullati tutti i parcheggi da questo lato della strada nei pressi della caserma si realizzerà un camminamento pedonale, una aiuola, una pista ciclabile e si lascerà una stretta corsia per il transito delle auto dalla parte invece opposta verranno lasciati i parcheggi ma saranno in numero minore. L'ultimo rettaio anche al mare serve il sarto una pagina monografica dedicata ad un mestiere non so se va scomparendo o meno se fin quanto ci sarà la pesca i pescatori avranno bisogno di riparare le reti si tratta di Mauro Facchini detto pipeta di 72 anni di cui 40 in barca si è inventato questo nuovo lavoro in realtà non è un nuovo lavoro perché c'è sempre stato nel porto di Fano e dice non lo cambierei con nulla al mondo comunque è una intervista molto molto interessante effettuata da Silvano Clappis l'economia è in bolletta dal comune 400 mila euro 100 mila per alleggerire le tasse dei cittadini e 300 mila per le attività colpite dal covid individuata una platea di 900 negozi interessati nel comune di Fano altre provvidenze dunque per sostenere le imprese in difficoltà ma anche le famiglie e riuscire ad uscire dalla crisi Sacchettopoli, così staneremo chi sgarra altre 10 isole ecologiche saranno attrezzate a Fano con videocamere quest'anno 3000 controlli e 387 violazioni le immagini registrate saranno esaminate dagli ispettori ambientali e dalla polizia locale giriamo ancora pagina e vediamo che si parla di guardia medica a Mondavio una guardia medica che funziona a Singhiozzi ebbene in 20 giorni sono stati soppressi 14 turni malgrado le rassicurazioni dell'Asur molti disservizi e c'è anche l'ira dei sindaci leggiamo anche un titolo sulla pagina di Urbino Laura Adonorem al pubblicitario Iabichino la solenne cerimonia sarà lunedì 15 a Palazzo Battiferri grande creativo di fama internazionale attento all'etica nei messaggi è un grande scrittore pubblicitario e direttore creativo e qui vediamo la foto del premiato passiamo ora al Corriere Adriatico abbiamo già visto la prima pagina quindi andiamo nelle pagine interne e parliamo di coronavirus le rianimazioni ormai sono all'11% si cresce anche nella nostra regione e avanza lo spettro della zona gialla le marche con il Veneto e l'Emilia Romagna sono tra le regioni potenzialmente a rischio ma dire addio alla bianca però bisogna insomma si devono superare tre parametri contemporaneamente e ancora siamo nei limiti Salta Martini sta con i medici gli stipendi vanno adeguati in regione c'è stato l'incontro di cui abbiamo già parlato per risolvere i nodi del pronto soccorso ospedalieri l'assessore dopo la protesta per la carenza di personale nell'emergenza dice metteremo a disposizione tutto ciò che la regione può garantire per superare le difficoltà quindi buone intenzioni ci sono bisogna vedere se si troveranno i mezzi e le risorse economiche adeguate e vediamo ora il problema della nuova questura anche il Corriere Adriatico dice che non c'è nessuna certezza e deve decidere Roma il sindaco sulla scelta del demanio dice all'ex intendenza collocano gli uffici statali quindi si scarta questa ipotesi con l'accordo sono saltati anche i 6,2 milioni e il comune mette a disposizione due aree uno alla celletta e l'altro alla torraccia per 5.000-6.000 metri quadrati di edificio opere in ritardo la lista è lunga quasi sette anni per il vecchio Palace infinita anche la storia della bretella per muraglia con i primi lavori solo ora problemi contenziosi che si sono allungati e non risolti per mille aspetti ritrovamenti archeologici interruzioni eventi naturali vedi il terremoto del 2016 aggiornamenti progettuali lungaggini nell'arrivo di materiali problemi di natura burocratica fruggettale lo zampino del Covid insomma tanti tanti problemi che hanno dilungato il termine di lavori e intanto le opere languano e rimangono così semi iniziate insomma con il cantieri aperto per lungo tempo in mezzo alla città dequalificandone l'immagine pronto soccorso stabilizzazioni e la nuova ala per i pazienti Covid sono due risposte chieste celermente dal direttore Ignudi al vertice regionale di ieri con l'assessore Salta Martini entro la fine anno se ne vanno altri tre medici questo è un problema grave attese di giorni per i ricoveri riserve l'integrazione con il territorio Covid le nuove regole a scuola ai presidi ora più responsabilità le misure introdotte per limitare il ricorso alla didattica a distanza delle classi si introduce la quarantena differenziata per studenti vaccinati e non vaccinati ebbene il preside registri alla mano è autorizzato ora a rintracciare chi è stato a contatto con il positivo 48 ore prima e fa scattare il T0 ovvero il tempo 0 con l'obbligo ai compagni di fare il test prima possibile insomma un nuovo giro di vite nelle scuole Stolker arriva in taxi e rapina la ex non paga e l'autista lo mette in fuga l'episodio di cui abbiamo già parlato arrestato il 26enne aveva tre denunce si era impossessato del telefono della donna di 17 anni più grande di lui e poi ancora cade dalla sedia a rotelle sulle strisce attraversamenti a pezzi ora basta l'incidente si è verificato in piazzale Matteotti la tempesta di Ascoltiamo Pesaro dice il comune ripristini la sicurezza quelli che cammineranno 10 chilometri intorno alla città walking progress sport e benessere con Movens comune Asur e Copp Alleanza è un'iniziativa che si svolgerà domenica prossima 14 novembre in un percorso ad anello di 10 chilometri che partendo da piazzale della Libertà toccherà le vie e i quartieri cittadini promosso dalla palestra Movens e dagli altri elementi di cui abbiamo già parlato ora passiamo alla pagina della Valle Foglia case rurali occasione per 145 e la variante di cui abbiamo parlato prima la variante al piano regolatore promossa da alcuni sindaci Ucchielli e Gattoni spiegano negli ultimi 55 provvedimenti al PRG 372 pratiche delizie nel 2021 pensate c'è anche un edificio da ristrutturale che aveva attinenza alla banda Grossi travolto mentre attraversa la strada morto Gelli la voce di Romagna mia il musicista di 87 anni è stato investito da un SUV a Vivio Borzaga ieri alle 18 espirato due ore dopo in ospedale a Durbino stava attraversando la strada in un punto davvero buio con lo scroscio di un abbondante temporale quando è stato speronato ad un fianco da un SUV guidato da un 76enne di Fossombrone a Fano nuovi contributi comunali per le famiglie e gli esercizi una seconda tranche da 400.000 euro di aiuti per chi ha subito danni dalla pandemia e ci sono due aiuti 100.000 euro per le famiglie saranno poi proporzionati ai livelli di ISE e 300.000 euro invece ai negozianti sul Corriere Adriatico abbiamo anche tutti i settori a cui appartengono i negozianti che saranno sostenuti con questi nuovi contributi la sinistra apre al Movimento 5 Stelle e chiede le primarie la lista Fano in Comune vota la linea per le elezioni amministrative del 2024 la linea politica è quella di un confronto col Movimento 5 Stelle per verificare la possibilità di una nuova e più ampia alleanza e abbiamo poi la notizia sull'incontro che c'è stato ieri in merito alle novità sulle isole ecologiche rifiuti altre 10 telecamere quasi 400 multe ai furbetti elevate in 9 mesi dagli ispettori ecologici occhi elettronici già attivi in 50 isole e poi il resoconto della giornata dei diabetici sono stati eseguiti 250 screening al Fanos Center dove sono stati trovati anche 10 persone con valori alti della glicemia Shalom nella Baraccopoli L'Onlus Fanese Chiama l'Africa porta a servizi la coordinatrice dell'Africa Chiama ha verificato a Soweto l'esistenza a sei categorie fragili si tratta di Raffaella Nannini che ha compiuto un viaggio in Africa e poi nella Val Cesano a San Costanzo nuove occasioni di lavoro per i giovani disoccupati e l'impegno del comune di San Costanzo che organizza colloqui di selezioni con tre agenzie e già si parla di Natale torna il Natale più bello nel borgo più bello quello di Mondolfo lo dice il Corriere Adriatico dopo la versione digitale 2020 quando tutto si è svolto sul web si ritorna la tradizionale festa nelle date 5-12 e 19 dicembre non abbiamo oggi la notizia di Senigallia per cui possiamo passare subito allo sport vedendo come le due squadre di calcio provinciali siano un po' in affanno la Vis cerca di dimenticare il 3-0 subito domenica scorsa contro la Reggiana la Vis con i tre gol ha incassato anche tanti complimenti la sconfitta con la Reggiana non ridimensiona i biancorossi mentre il fan ha sidurato Gioffre deciso l'esonero del tecnico lo si aspettava ormai dopo quattro sconfitte squadra per ora Fiscaletti già sfumato Maggi il principale favorito è Angelini Alessandrini e Omiccioli sono distanti insomma al momento Fiscaletti è l'allenatore era il secondo in graduatoria e quindi è l'allenatore temporaneo e poi si vedrà chi sarà l'allenatore che dovrà cercare di far risalire i Granata ai livelli della classifica i Panthers risultati disastrosi e situazione grottesca i tifosi della curva anche i DS Agliano e Califano vanno subito allontanati la VL guarda al mercato ma prima deve battere Napoli ieri voci infondate su Clyde Brown al posto di Drell o Sanford la società deve ancora scegliere era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle 7 le notizie invece oggi tornano stasera alle 20.30 sul TG di Fano TV buona giornata